La parola a questo punto passa a Romeo Sanazzaro per la consegna delle targhe con il sindaco Maurizio Nazero ai rappresentanti maestri della banda di Villanova e della banda musicale di Porta Romano. Grazie per la vostra presenza, naturalmente buona serata, buon divertimento e lasciatevi trasportare dalle emozioni perché con la musica ce ne saranno veramente tante. Grazie, buona serata. Grazie. 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 Grazie.